Buonasera da TGTG, l'Italia sarà divisa in tre aree di rischio decise con un'ordinanza del Ministero della Salute a seconda della gravità, lo spostamento di una regione da un'area all'altra. Lo ha annunciato oggi il Presidente del Consiglio Conte, un nuovo DPCM in arrivo con nuove misure di chiusura e limitazioni. Tutto questo entro mercoledì sarà determinato, ne parliamo oggi, ne parliamo anche delle conseguenze economiche di questa nuova stretta a quanto sappiamo al momento. Lo facciamo questa sera con il Direttore dell'Ufficio Studi di Confcommercio, Dottor Mariano Bella. Buonasera Direttore. Buonasera, grazie per l'invito. Numero importanti per cercare di capire, di fotografare la realtà e la direzione verso la quale stiamo andando. Mastico ovviamente i numeri perché ha diretto anche l'Ufficio di Statistica Nazionale, l'Istat e poi è stato anche Ministro della Repubblica. L'economista Enrico Giovannini, buonasera professore. Buonasera, buonasera a tutti. Benvenuto e allora dopo la sigla guardiamo insieme i titoli di TG della Sera. Eccoli. Conte in Parlamento entro mercoledì nuove restrizioni da modulare in base alle aree a rischio. Molto preoccupante la curva dei contagi. Conte davanti alle Camere cerca un percorso comune con le opposizioni per affrontare l'emergenza Covid. Il Premier spiega le tre aree con i relativi scenari di rischio, le misure che per ogni area in base all'indice di contagio fino al lockdown. Ma il nuovo DPCM per ora è solo una cornice. I provvedimenti saranno messi nero su bianco forse domani. Ma intanto chi ha preso il centro della scena è il Presidente della Repubblica Mattarella, che chiede alle forze politiche, alle istituzioni e alle istituzioni locali di unire gli sforzi. Meno contagi oggi 22.253 ma 40.000 tamponi in meno. In aumento le vittime 233. Continua la pressione sugli ospedali con ricoveri e terapie intensive che superano quota 2.000. A Milano i medici chiedono il lockdown. E allora rifacendoci al discorso oggi del Premier Conte, Dottor Bella, qual è la vostra opinione sulle misure che stanno per essere intraprese? Noi abbiamo scelto come Confcommercio fin dall'inizio di seguire in maniera scrupolosa tutte le indicazioni dell'autorità pubblica sanitaria senza fare polemiche, distingo e qualificazioni. D'altra parte è il nostro diritto e penso anche il nostro dovere segnalare che molti provvedimenti non ci sembrano perfettamente logici, al di là delle questioni economiche, nelle quali avremmo preferito puntare più sugli indennizi piuttosto che su tante misure e tanti bonus, ma al di là delle questioni economiche le restrizioni all'attività economica le avremmo capite di più se qualcuno nel governo ci avessi offerto dati ed evidenze empiriche sui luoghi, i tempi e i soggetti dei contagi. Voglio dire, il giro di vite va bene se la vite è quella giusta, viceversa si fanno ulteriori danni. Per essere chiari, nei ristoranti, nei cinema, nelle palestre, ci sono dei soggetti, gestori, proprietari, che comunque hanno la delega all'applicazione di rigide regole di distanziamento e sanificazione. In altri luoghi questi soggetti non ci sono o se ci sono non fanno correttamente il loro dovere. Allora dovremmo capire se i contagi ci sono in questi posti e va bene chiuderli, viceversa bisogna chiudere i posti dove ci sono i contagi e dove non c'è nessuno che controlla. Ecco, sulla condivisione di questi documenti la Ministra dell'Agricoltura, Bellanova, proprio da noi in diretta, ha lamentato la mancanza di accesso nel momento della decisione, questo nel precedente contesto del precedente DPCM. Rispetto a questo però le pongo, guardate come l'iPad, siamo sul sito dell'Alto Adige, la scelta dell'Alto Adige, cioè quella di mantenere inizialmente aperti i ristoranti oltre all'orario invece deciso dal governo italiano e che invece in questo momento i ristoranti e i negozi sono chiusi, il coprifuoco dalle 20 alle 5. Ecco, questo ci dà un po' una direzione, cosa pensa? Ci dà una direzione ma senza dati, cioè non abbiamo i dati su dove si sono generati i contagi. Qualcuno che non va attacciato di pessimismo o di essere antigovernativo dice anche che forse abbiamo perso del tempo utile nell'attrezzarci sia dal punto di vista del distanziamento che del potenziamento dei trasporti pubblici e della sanità sia soprattutto dal punto di vista della comunicazione e della raccolta dei dati. La storia dei dati è fondamentale perché le persone per condividere un atteggiamento, per impostare dei comportamenti coerenti hanno bisogno di capire. Non possono essere trattate esclusivamente come dei bambini o dei preadolescenti per cui ci dobbiamo fidare. Cerco di spiegarmi con ultima battuta, un ristoratore o un gestore di palestra che ha applicato per sette mesi, diciamo da maggio, la fine maggio, quando siamo riaperti, che ha applicato scrupolosamente, seriamente, con precisione, i protocolli di sanificazione e distanziamento che gli sono stati dati dall'autorità sanitaria. Oggi si trova un po' in difficoltà perché gli dicono di chiudere. Quasi sembra un fallimento di quelle misure in qualche modo. Comprensibilmente uno si domanda, allora erano sbagliati i protocolli, ma saranno giusti questi? Ecco, siccome il Presidente del Consiglio oggi ha detto che dobbiamo stare uniti, uniti dal punto di vista virtuale, perché uniti nella separazione fisica, ecco, dobbiamo stare uniti, dobbiamo avere comportamenti coerenti, anche secondo la moral situation del Presidente della Repubblica, Mattarella, però per comportarci bene abbiamo anche bisogno di capire. La comunicazione qui, visto che siamo al quarto di PCM in dieci giorni, forse non è particolarmente precisa. Sì, va detto che forse il passaggio alle camere è comunque in una strada di trasparenza, anche nelle sedi, però tutto resta aperto. Allora, professore Giovannini, vorrei condividere con lei, facendo prima un tentativo di sintesi sulla cornice e basandoci sul discorso fatto oggi e attraverso questi cartelli, cioè sulle misure, quello che oggi Conte per l'appunto ha annunciato. L'Italia, guardate con questi cartelli, suddivisa in tre aree di rischio, con un'ordinanza del Ministero della Salute, come dicevamo poco fa, e quindi un calidoscopio di restrizioni differenti a seconda della gravità. E poi ancora, la chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, chiusi musei e mostre, e ancora una riduzione della capienza dei mezzi pubblici, è stato un tema grandissimo al 50%. Verranno limitati, molto probabilmente, gli spostamenti tra regioni, salvo ovviamente le classiche eccezioni, ecco quelle che sappiamo, di lavoro e di salute, e poi limiti alla circolazione delle persone in quella che il Premier ha detto nella fascia serale più tarda, e poi ancora scuole secondarie di secondo grado, didattica a distanza al 100%. Professore Giovannini, queste chiusure, queste limitazioni, avranno anche delle nuove conseguenze economiche? Ovviamente sì, le avranno, certamente inferiore a quelle di un lockdown generalizzato, come quello che abbiamo avuto prima dell'estate. In altri termini, non solo l'Italia, ma anche gli altri paesi europei, stanno cercando di mettere in atto tutta una serie di azioni graduali, e poi possiamo discutere sulla gradualità, sull'uso dei dati, eccetera, eccetera, per evitare esattamente lo scenario più drammatico, che è quello di un lockdown generalizzato, in cui non solo si hanno dati economici come quelli che abbiamo visto tra marzo e maggio, ma, secondo una serie di stime anche del Fondo Monetario Internazionale, il secondo lockdown ha effetti molto maggiori a parità di entità del primo, e questo lo stiamo vedendo anche nel mondo della scuola, basta parlare con chi è oggi nel mondo della scuola per sentirsi dire che una serie di ragazzi, quindi non i bambini, stanno dicendo, va bene, a questo punto io non vado più a scuola, ne parliamo l'anno prossimo, con il rischio enorme di perdere tanti studenti. La stessa cosa rischiamo di averla sulle attività economiche, quindi è un bene cercare di fare di tutto per evitare un lockdown generalizzato e, al di là della questione dati, non c'è dubbio che la chiusura delle attività in cui ci sono maggiori assembramenti, al di là del fatto di aver già messo in pratica le misure di sicurezza, è l'unica strada che abbiamo davanti. Ecco, dottor Bella, senza puntare il dito verso alcuni luoghi, alcuni esercizi commerciali, di fatto però anche è empiricamente riconoscibile che c'è un rischio maggiore in un tavolo, come dire, che non presenti congiunti, ma persone differenti che scelgono, questo andando contro le direttive ovviamente, di condividere un pasto in cui la distanza non può essere superiore a quella ovviamente decisa e concessa. Di fatto però lo spettro di un lockdown sembra essere, come dire, una misura dalla quale sarà difficile rialzarsi. Due cartelli, la fonte è proprio quella dell'ufficio studi ConfCommercio, guardano al rischio della chiusura definitiva. imprese di commercio su 925.000 del nostro paese il 9,5% e nelle imprese di servizi resta quasi invariata questa percentuale aumentando di poco il 10%, cioè chiusura per sempre. Come uscirne? Perché il diritto alla salute va conciliato con il diritto al lavoro. Bisogna fare la distinzione tra salute e economia. Senza la salute non c'è economia, perché se lasciassimo tutto aperto e i contagi crescerebbero, le persone a un certo punto smetterebbero di uscire di casa e non consumerebbero. Quindi non c'è economia senza salute, nel lungo termine non c'è salute senza economia e istruzione, cioè produttività del capitale umano. Quello che stiamo perdendo in termini di scuola, proseguo il discorso che faceva il professor Giovannini, che è un esperto di queste cose, quello che stiamo perdendo in termini di istruzione di capitale umano oggi ce lo ritroveremo fra dieci anni. Assolutamente. Sulle imprese, dunque adesso sta accadendo questo, le imprese chiudono, ma non si cancellano dalle camere di commercio. Cioè nei primi nove mesi del 2020 questo fenomeno non si vede perché non è registrato. Noi facciamo riferimento a quello che accadrà e che si vedrà, crediamo, nei primi sei mesi del 2021. Quindi la situazione è ancora peggiore? Beh, di quella che possiamo verificare dai dati è certamente peggiore, perché io chiudo, non lavoro, ma consegnerò, mi cancellerò dalla camera di commercio del luogo di residenza fra un mese o fra due mesi, quando sostanzialmente getterò la spugna. In parte questo si vede dai dati dell'occupazione. Se guardiamo settembre, l'occupazione è andata di stock, e lo confrontiamo con qualsiasi mese rilevante, settembre 2019, marzo 2020, la perdita di occupazione è occupazione indipendente, quindi partite IVA e piccoli imprenditori, e collaboratori, cioè dipendenti a tempo determinato. Questo è il colpo che per adesso si vede. Che è certificabile in qualche modo. Ma poi si vedrà molto peggio. D'altra parte, se l'Italia perde il 9% di PIL o qualcosa in più, in termini di occupazione c'è poco da fare. Prima o poi lo vedremo, e come lo vedremo sul tessuto imprenditoriale. A proposito dell'importanza dei numeri, ne ha parlato proprio oggi la Merkel, che era d'accordo con lei su questo, ricordando l'importanza appunto di analizzarli, della matematica quindi applicata in questo contesto di emergenza. Certo c'è, come dire, l'esigenza anche di guardare oltre, di guardare avanti. Professore Giovannini, lei autore di un testo edito dalla Terza, Quel mondo diverso da immaginare, voglio farvi vedere la copertina, per cui battersi che si può realizzare. Ecco, che mondo immagina? Perché non c'è tempo da perdere. No, in questo libro insieme a Fabrizio Barca cerchiamo di far capire perché il modello di capitalismo negli ultimi 40 anni, il modello liberista, che pure ha prodotto molti risultati importanti, è inadatto a gestire il XXI secolo. In una parola perché un modello tutto basato sull'efficienza è fragile, è vulnerabile e lo abbiamo visto in occasione di questa crisi. E come sappiamo questa non è l'ultima pandemia che avremo, ci sono altri shock come anche la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen ha detto. Quindi in questo libro cerchiamo di spiegare che è possibile immaginare una politica economica e sociale diversa. Ed è in qualche modo legato anche a quello che abbiamo sentito prima. L'Italia è comunque un paese con un rapporto ricchezza-reddito tra i più alti al mondo, prima della crisi, e ci resterà anche dopo questa crisi. Allora, noi dobbiamo orientare quella ricchezza per far partire nuove iniziative, una nuova generazione di imprenditori, magari più giovani, magari donne, magari ex dipendenti che si dovranno reinventare, i ristoranti non saranno più in centro, ma saranno magari più vicini ai luoghi dove dormiamo, perché ci sarà un cambiamento strutturale. Ora, è chiaro che i costi della transizione sono molto elevati, però, e qui anche nel rapporto dell'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, di cui sono portavoce, l'abbiamo sottolineato, è importante che le politiche non siano soltanto orientate alla protezione, ma anche alla promozione di una nuova imprenditoria. altrimenti rischiamo di trovarci una situazione comunque devastata, senza però aver preparato il salto verso il futuro. Grazie, professore Giovannini, ricordo Quel Mondo Diverso, edito dalla Terza, grazie anche al direttore dell'Ufficio Studi di Confcommercio, Mariano Bella, grazie per essere stati con noi. Grazie a voi. E noi continueremo, do appuntamento a voi che ci seguite, anche ai nostri ospiti domani, perché continueremo questo filo, a proposito di futuro, sulla denatalità, sull'investimento, sulla famiglia. Ne parleremo, avremo qui a TGTG domani sera, la Ministra della Famiglia Elena Bonetti. Grazie per essere stati con noi, grazie del vostro tempo e a domani. Grazie a tutti. Grazie a tutti.